Martedì 12 marzo, buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV. Questa è la rassegna stampa del mattino in diretta alle 7.30, come di consueto, in replica sino alle 13.30, ma disponibile sempre a un demanda sul sito internet occhioanotizia.it. Vediamo subito il santo del giorno, oggi è San Luigi Orione, salutiamo anche tutti quelli che ci seguono e che in qualche modo appartengono alla grande famiglia Orionina, Fano ne abbiamo diversi di istituti, abbiamo il Don Orione, il Don Gentile, insomma poi abbiamo le suore a Bellocchi, tanti che ci seguono. Il sole è sorto alle 6.25, Casa Serena, e il sole tramonta alle ore 18.10. Il tempo, oggi è una bellissima giornata di sole, perlomeno qua sulla parte nord delle Marche, invece per chi ci segue nel sud delle Marche, quindi come vedete dal grafica ci sarà ancora qualche residuo di pioggia, soprattutto nelle prime ore della mattinata. Il limite delle nevicate è attorno agli 800 metri, avremo ancora un po' di vento teso sul crinale appenninico. Domani, mercoledì, il tempo ancora sarà incerto dal pomeriggio, avremo deboli occasionali piovaschi, poi diventeranno nel tardo pomeriggio di domani invece rovesci, saranno sparsi, in particolare nel settore centro-meridionale, ancora neve attorno ai 1200 metri. Avremo ancora vento che soffierà per la giornata di mercoledì, giovedì migliora un po' al nord, ma continuerà ad esserci variabilità. Le precipitazioni saranno giovedì sparse a carattere di rovescio, in progressivo esaurimento, nel corso della mattinata il limite delle nevicate è attorno ai 1200 metri. Le temperature sono in aumento nei valori minimi. Poi tempo stabile per il resto della settimana, quindi fine settimana. Ma andiamo a vedere, grazie ai nostri telespettatori, queste fotografie che ci hanno inviato pochi istanti fa, prima di andare in diretta, in onda. Questa è una spolverata di neve che ci è stata segnalata da una nostra telespettatrice, poi vi diremo anche il nome. Ecco, no, anzi, un nostro telespettatore, Carpegna, Enrico, mentre Montenerone, questo è uno scatto fotografico di Luciano, le antenne vedete sullo sfondo, c'è più neve rispetto a Carpegna, e poi l'altra fotografia invece è di Elisa, sempre del Monte, Montenerone. Allora, andiamo a vedere adesso i giornali. Questa è la prima pagina del resto del Carlino, Vivo per Miracolo, parla Fulvio Urbinelli, il 71enne che viaggiava nell'auto che si è vista piombare addosso l'Audicon dentro i due giovani, i quattro giovani di cui due sono morti. E questo Fulvio Urbinelli era a bordo con i suoi due gemelli di otto anni. E tra poco vedremo che cosa, c'è una bella intervista sul giornale questa mattina. Poi, shock per i due giovani, qui siamo sul Corriere Adriatico, preghiera invece per Chiara e Elisa, l'altro ferito all'imprenditore Urbinelli, non ricordo nulla, dice dell'incidente a San Salvatore, le ragazze arrivano in silenziosa processione, stazionando davanti al reparto di terapia intensiva, al di là si trovano Chiara Gennari, 23 anni, a maggio, Elisa Bianchini, 19 anni, da compiere a dicembre. Sono le due giovani sopravvissute alla mortale carambola sulle Siligate, dove hanno perso la vita Giuseppe Troisi e Wendy Xani. E anche il Corriere Adriatico dedica due pagine a questa tragedia. Scuola e Sanità, la grande fuga di quota 100, invece a centropagina sono 6.000 marchigiani interessati dal Decretone. Decretone è quasi una domanda su due, e arriva dal pubblico, incognita, le cattedre per settembre. E allora, vediamo la pagina in primo piano del Corriere Adriatico. Eni e Giuseppe, sciocche e dolore, preghiamo per Chiara Elisa, sono ricoverate in proniosi riservate in terapia intensiva, le due ragazze sopravvissute all'incidente delle Siligate. L'altro ferito è l'imprenditore Urbinelli, che ha rivelato l'astra caffè a Pesaro, che dice, non ricordo nulla di quell'incidente. Però i bambini stanno bene, sono i giovani che hanno perso la vita, erano amici da sempre, ricordo, erano unitissimi, stavano sempre insieme. Al San Salvatore, appunto, intanto le persone che pregano, sperano e che vanno lì per stare vicini, vicina alle persone che ancora sono ricoverate in ospedale. Potevo perdere invece i miei bimbi, queste sono le parole di Fulvio Urbinelli, il 71enne, notissimo imprenditore a Pesaro, titolare del bar Pasticceria Astra di Via Rossini. Urbinelli è ricoverato nel reparto di medicina di urgenza di Pesaro, con alcune costole rotte e varie echimosi. Lui dice, siamo miracolati. E sentite che bello, cosa dice? Ogni sera faccio dire ai miei bambini la preghierina all'angelo custode, e l'angelo si è ricordato di noi, salvandoci la vita. Poi racconta anche, ma non voglio leggervi oltre, perché c'è tutta questa bella intervista di Damiani appunto a Urbinelli, sul letto d'ospedale, e parla anche della macchina che ha inchiodata da sola, grazie a questo sensore che ha nel paraurti. È una macchina dunque di nuova generazione, questa Hyundai, che a quanto pare gli ha salvato la vita, perché se non era per questa frenata supplettiva, racconta lui, io andavo a sbattere ai 70 km orari. Invece l'Audi si è schiantata contro di noi, mentre la mia macchina inchiodava, e quindi insomma è andata bene anche per questo. La mamma di Chiara, i medici mi hanno dato fiducia, Chiara è una delle due ragazze che viaggiavano nell'Audi A4, i medici dicevo, mi hanno dato fiducia, stazionari le condizioni di queste due ragazze di 23 e di 18 anni che erano a bordo, le pazienti vengono tenute in coma farmacologico, la proniosi resta dunque riservata. Mia figlia Chiara è stabile, è ancora intubata, spiega la mamma, deve superare il trauma, i medici la tengono quindi sedata per potersi riprendere più in fretta. Mentre non parlano i familiari di Lisa Bianchini, 18 anni, che certamente erano presenti lì nel reparto, ma attendono maggiori rassicurazioni. E poi sempre sul resto del Carlino, Giuseppe e Wendy, oggi ci sarà l'autopsia per loro, intanto proseguono le indagini per appurare la dinamica. Il conducente dell'auto, era Giuseppe Troisi, ha perso il controllo della vettura, andando a carambolare contro la Hyundai, che procedeva invece verso Pesero. Tra le ipotesi, non si esclude che l'Audi possa aver toccato o urtato lateralmente il furgone Ford Transit, che stava superando, perdendo poi il controllo. Ci sono le perizie tecniche che adesso dovranno appurare cosa abbia provocato la morte di questi due ragazzi. Intanto tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro. E il giornale ricorda come i messaggi, i messaggi dei politici, ma anche il messaggio, il messaggio, il ricordo del rettore dell'Università di Urbino, dove Xani appunto frequentava la facoltà. Subito la rotatoria e taglio alla velocità. Il quartiere chiede di abbassare a 70 km orari gli attuali 90, mentre è stata fissata l'autopsia. Le testimonianze sono adesso al vaglio dei vigili di Pesero. ha accertato però che l'Audi, secondo il Corriere Adriatico, fosse in discesa in fase di sorpasso. Il consigliere Biancani dice effettuate tante migliorie, eppure si continua su quel tratto di strada a morire. Apriamo la pagina di Fano del resto del Carlino. Parliamo di centro di prenotazione unico regionale, che va un po' a due velocità. Chi va di persona a prenotare una visita, ottiene chiaramente una visita prima al telefono, invece se uno prende appuntamento glielo danno tre mesi dopo. Perché devo prendere un permesso di lavoro per recarmi allo sportello? C'è chi si domanda e ci sono quindi ancora problemi per questo centro unico di prenotazione regionale. Sotto Marche Nord dice il disservizio è temporaneo e legato solo ad alcune prestazioni diagnostiche. L'azienda sta riorganizzando un po' le agende che per alcune visite sono momentaneamente sospese. La pagina di Fano del Corriere invece avanti con la strada delle barche, ad un passo dal progetto esecutivo, riprende fiato la cantieristica e l'assessore Fanese assicura, poi partiremo con il bando di gara. Dragaggio, carottaggio effettuati, ora doppio intervento al porto, uno nel canale di accesso e l'altro nel bacino di evoluzione. E poi la pagina sempre di Fano del Corriere che mostra i lavori attualmente in corso allo stadio Mancini di Fano con queste gru, questi bracci che stanno cercando di montare in tutta fretta la copertura di questa tribuna che ormai è priva di tetto da diversi mesi. Patron Gabellini non cambia idea nonostante gli infortuni del Fano che si trova ultimo in classifica sul nuovo stadio e dice Gabellini anche se scenderemo di categoria andremo a giocare tra i dilettanti e se tutto resta così purtroppo potrebbe essere e diventare realtà questa profezia ebbene, il nuovo stadio si potrebbe fare, si potrebbe pensare. La corsa è contro il tempo però adesso allo stadio Mancini perché il 24 c'è la Feralpi per quanto riguarda il campionato e il 31 invece la Nazionale dei Cantanti. Ho firmato solo tre documenti sulla sanità se eri non dice il vero dice Stefano Guzzi il sindaco di Colli al Metauro innervosito smetta di accusare me e la mia giunta per i suoi problemi. D-Day sui vaccini mano morbida aspettando gli elenchi di Asur nessuna esclusione tra i bimbi delle scuole d'infanzia dirigenti, assessori e sindaci dicono tutto regolare dunque tutto regolare nelle scuole dell'infanzia e anche ai nidi se in altre regioni d'Italia non è mancato il caos a Pesaro e nella provincia non ci sono state esclusioni almeno secondo quanto si apprende da sindaci comitati genitori free vax e avvocati a Pesaro non è ancora tornato indietro l'elenco dell'Asur dei bambini che avrebbero dovuto vaccinarsi e dunque mano morbida facciamo quindi la legge diceva che il termine del 10 marzo riguardava solo quei bambini i cui genitori hanno dichiarato all'inizio dell'anno scolastico di aver già effettuato le vaccinazioni ed è ragionevole pensare che arrivate al 10 marzo possano produrre senza problemi la relativa documentazione terzo mandato Ricci incassa i sì ma Barbanti dice delibera elettorale secondo round il consigliere del PD non vota e anche Vitali si astiene mentre l'opposizione abbandona l'aula siamo ovviamente a Pesaro qui invece a Vallefoglia istrice contro un'auto danno da 400 euro verbale immediato o niente rimborso sempre più schianti causati da animali selvatici la regione ha finanziato un fondo speciale che ripaga in tre mesi dai Torricini all'India per il design lavoro 10 ore anche con le tribù da portaborse del fotografo a coordinatore di 25 architetti in 18 mesi progettiamo bar e ristoranti parla il giovane designer Urbinate Federico Fraternale oggi head designer di una grande azienda indiana per la quale dirige 25 architetti da tutto il mondo scocca l'ora della Tirreno Adriatico rivoluzione viabilitale strade chiuse colli al Metauro e Calcinelli punti chiave della quarta tappa che si concluderà a Fossombrone sabato dalle 14.45 saranno interessati diversi tratti dalla provinciale orcianese fino al confine di Piagge insomma tante sono le strade qui c'è l'elenco che troverete sulla pagina del Corriere Adriatico i sindaci chiedono ai residenti la massima collaborazione nella gestione del fine settimana cancello chiuso al cimitero siamo a Mondolfo per l'intervento di bonifica disagi in mattinata operazione di esumazione imposta dall'ordinanza del sindaco il sindaco Nicola Barbieri che ha fissato quest'ordinanza al cancello d'ingresso il divieto resterà in vigore dall'apertura prevista alle ore 7 fino alle ore 11 di oggi tecnologia invece a Pergola al servizio dei bronzi partiti i lavori al museo investimento che supera i 230 mila euro Castratore dice fra due mesi regaleremo una grande emozione e poi da Senigallia spedisce una foto hard su Facebook poi a un certo punto chiede scusa dice anche forse devo curarmi si è praticamente fotografato nudo poi ha inviato questo scatto ad una donna dopo essere stato insultato però si scusa e ammette forse hai ragione sono malato e mi devo curare la posta indesiderata è arrivata domenica mattina ad una 43enne residente a Senigallia sul sistema di messaggistica istantanea di Facebook Messenger e glielo ha spedito un uomo un uomo che conosceva già perché aveva qualche amica e amico anche tra colleghi in comune si tratterebbe di un 41enne residente ad Ancona e poi la rapina di Monte Marciano al Market quella in cui sono entrati in azione armati di coltello ebbene è stato arrestato anche il secondo bandito la rapina è avvenuta al tigre amico di Marina era stata puntata la lama alla gola della cassiera decisivi i filmati e poi torniamo sul resto del Carlino a Isola di Fano vicino Fossombrone una gran puzza di letame ieri mattina nei pressi della frazione e i miasmi si levavano da del materiale organico che alcune cisterne hanno sversato in un terreno agricolo che confina con la strada per Montevecchio di Pergola è stato chiamato anche la comandante della polizia locale Orietta Ceccarini che è stata sul posto ha detto sì la puzza era piuttosto asfissiante però dovrebbe essere tutto regolare hanno dato in carico ai carabinieri della forestale di chiarire tutti gli aspetti tecnici della vicenda e adesso dovremmo saperne qualcosa di più nel giro di una settimana poi da Pesaro ancora sul resto del Carlino la moglie del pentito lo Stato deve aiutarci delitto Bruzzese appello della consorte di Girolamo abitiamo ancora a Pesaro dopo la tragedia però quella del 25 di Natale insomma del 25 dicembre io e i miei figli non viviamo praticamente non viviamo più e poi si parla della lista dello sport la lista che si farà nonostante le polemiche nonostante la bufera nella quale è finita da qualche giorno il sindaco Matteo Ricci tira dritto e pare che abbia iniziato il conto la rovescia verso l'ufficializzazione del nuovo gruppo a suo sostegno intanto il Carlino pubblica un po' in anteprima il logo che vedete Forza Pesaro sportivi per Matteo Ricci con lui ci dovrebbero essere i pari olimpici Trebbi e Anna Maria Mencoboni della Dora dovrebbe essere alla guida di questa lista praticamente di sportivi chiudiamo la nostra rassegna stampa ricordando questo giovane di 23 anni un giovane poeta che è morto stava pubblicando le sue poesie era affetto da una malattia rara patologica stiamo parlando di Leonardo Fulvi Ugolini che si è spento domenica all'ospedale di Pesaro dove era ricoverato da alcuni giorni per le gravi conseguenze prodotte nel suo corpo vulnerabile dall'influenza si era diplomato in grafica pubblicitaria nel 2015 dopo la scuola ha frequentato i tirocini al Museo Civico di Fano dove ha potuto dare spazio alla sua grande passione per l'arte che univa ad un altro amore quello per la poesia purtroppo un destino drammatico gli ha impedito di vedere stampato questo libro che spero alla fine verrà la luce in qualche modo i funerali di Leonardo si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di Piagge era questa l'ultima notizia della nostra segna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti